Ho dieci minuti e ho detto non ce la faccio più, ti consegno tutto, vado, spiegagli che non sto bene, vado a casa. Mi aveva anche stato operato, è stato mesi, mesi, non è una delle attenzioni, perché ti addormento una parte e tu senti i martelli, le seghe, tutto, e senti anche l'odore, quello che mi diceva lui, non è una bella cosa, mi spiace. Vedi, con il tempo si può uscire. Ecco, adesso ci manca solo la vera, non c'è niente di studio. L'importante è che quella, non dimenticarsi.